Volevano chiamare per andare a lavorare con i colleghi, potevo essere lì e mi ha scosso troppo, tanto, tanto. Lei si è salvato per una mancata telefonata? Esatto, penso che è un angelo che c'ho dietro, perché se no non si spiega. Non avevano angeli custodi alla stazione di Brandizzo i cinque colleghi di Giuseppe. 21 anni, da due alla Sigifer, condivideva con loro le notti sui binari. Era già capitato di cominciare i lavori senza che la circolazione ferroviaria venisse interrotta? Sì, molte volte, per magari andare a casa mezz'ora prima o accelerare il tempo di lavorazione. Nessun operaio si è mai rifiutato di farlo. Lei è consapevole che dopo questa intervista potrebbe avere delle ripercussioni sul lavoro? Certo, ci mandano dentro il binario come fosse un parco giochi. Gli operai sono solo numeri. La stessa rabbia dolente ce l'ha a Francisco, nonostante un contratto a tempo indeterminato con l'azienda di Vercelli e uno stipendio che può arrivare a 2000 euro, a cui è disposto a rinunciare affinché i suoi amici abbiano giustizia. Ha mai rischiato di essere investito anche lei da un treno? Sì, ho rischiato Chivasso, diciamo, quattro mesi fa. Che se non era per un mio collega che mi tirava dalla maglietta, che pure lui era con me, se non ci tirava dalla maglietta non c'eravamo neanche noi qua. Non vi hanno mai impedito di andare sui binari prima dell'autorizzazione formale? No, mai ce l'hanno impedito. Non solo Masa lo faceva, ma lo facevano certe altre persone. Avete denunciato al sindacato, alle forze dell'ordine? No, però adesso me ne sbatto del lavoro, me ne sbatto di tutto, perché è ora che ci ha fatto giustizia per questi poveri ragazzi. Quando hai visto il video di Kevin Laganà cosa hai provato? Distrutto, distrutto, ancora fino adesso sono distrutto. Siamo cresciuti assieme, abbiamo fatto tutto insieme, che era come se fosse mio fratello.